Una riflessione sullo sport al femminile, in particolare sul calcio, una realtà in espansione a Napoli e in Campania. Si chiude con questi temi la prima edizione del ciclo di incontri dal titolo Lo sport in accademia, seminari dedicati allo sport organizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'incontro, che si è tenuto questa mattina nel Real Museo Mineralogico dell'Ateneo Federiciano, si è soffermato non solo sulle tematiche tecnico-sportive, ma anche quelli che vanno dagli aspetti anatomofisiologici alle ricadute psicologiche e sociologiche. Carlo Ruosi, docente del Dipartimento di Sanità Pubblica, traumatologo sportivo e del Napoli Calcio Femminile Carpisa, spiega gli obiettivi del convegno di questa mattina. Si parla sempre di sport agonistici e purtroppo anche lì i maschi la fanno da padrone. Abbiamo pensato che dare uno spazio maggiore allo sport al femminile poteva essere giustificato, anche per un'attività come quella dell'Università che raccoglie tutti i studenti e ricordiamoci che poi la maggioranza degli studenti che sono all'Università sono donne. E quindi ci è sembrato giusto, in particolare tra questo sport agonistico, parlare del calcio, del calcio femminile, perché a Napoli è una realtà in espansione già da diversi anni. Il calcio femminile in Campania ha conosciuto in questi anni un vero e proprio boom. Leader nella regione vera antesignana del calcio rosa è la Napoli Calcio Femminile Carpisa Yamamai, che vanta anche due anni consecutivi di permanenza in Serie A. Ai nostri microfoni ascoltiamo il presidente Raffaele Carlino. Noi come movimento al femminile calcistico stiamo crescendo tantissimo, stiamo dando tanta visibilità a uno sport che spesso in Italia purtroppo è un po' discriminato perché c'è sempre nella mente delle persone che è uno sport al maschile, ma invece non è così. Noi sono dieci anni che ci stiamo lavorando, abbiamo delle ragazze che veramente vengono allo stadio per la pura passione, quello che più Carpisa Yamamai da sempre hanno sponsorizzato questo sport perché siamo degli sportivi veri e purtroppo quello che vediamo tutti i giorni sui giornali al maschile, al femminile non ci sono nessuno di queste problematiche perché è pura passione per questo sport che è ancora fatto nella maniera in cui lo facciamo noi, è ancora uno sport incredibilmente bello. Presente all'incontro anche Alfonso De Nicola, fisiatra e responsabile dello staff medico della SSC Napoli che torna nell'Ateneo per confrontarsi con i giovani studenti. Noi pensiamo che lo sport faccia bene, faccia bene a tutti e quindi fa bene a uomini e donne, non credo che ci siano grandi differenze tra uomini e donne. L'unica differenza può essere nella forza fisica, nella fisicità, però la donna nello stesso tempo ha una grinta diversa proprio perché è tipico di chi ha una forza fisica, diciamo, tra virgolette minore, che poi non sempre è vero.